salve a tutti sono il professor samari francesco vi auguro una buona giornata e procedo con un video relativo ad un esercizio che mi avete richiesto l'esercizio per motivi di brevità lo trovate nella copertina nell'immagine di copertina e in ogni caso ve lo rileggo rapidamente per poterlo risolvere ma non scrivo la traccia ricordo a chi non mi conosce che sono in diretta live ho avuto diversi suggerimenti da da voi io registro tutto essenzialmente i docenti che mi stanno seguendo che sono in contatto con me utilizzano il pc però ovviamente youtube è utilizzato spesso e volentieri anche da smartphone e per gli smartphone diventa difficile la lettura perché ovviamente su un pc con un monitor da 20 pollici comunque da 15 pollici in su è facile leggere tutto con uno smartphone da 5 pollici diventa difficile leggere io ho una lavagna presto che è infinita una lavagna una lima virtuale infinita a questo punto scriverò più grande e seguo il suggerimento la cortesia che mi avete chiesto di scriverò più grande allora quindi scrivo solo concorso 20 20 mi riferisco alla prova pre selettiva pre selettiva quindi il focus i focus sono due ma maggiormente uno concorso straordinario scrivo solo straordinario potrebbe servire ma a mio avviso in minima parte al cfa quinto ciclo allora la domanda test di logica è questo giovanni entra in camera da letto al buio per non svegliare sua moglie luisa nel suo cassetto vi sono sette paia di calze indistinguibile a tasto di cui quattro paia blu e tre paia grigie quattro blu tre grigie quella mattina gli va bene uno qualsiasi dei due colori qual è il numero minimo di calze che deve prendere per essere sicuro di avere almeno due dello stesso colore attenzione chiede il numero di calze quindi vi consiglio in una in un istante di trasformare tutto in calze altrimenti rischia che vi sbagliate nella risposta quindi quattordici calze di cui otto blu e sei grigie le risposte possibili a b c d sono 3 4 2 e 7 allora per alcuni questo esercizio è stato difficile vediamo secondo me non è particolarmente difficile vediamo come risolverlo in realtà si risolve cioè si dà la risposta e vi spiego il perché la risposta è ovviamente 3 perché 3 se io ne prendo 3 possono essere o 3 tutte dello stesso colore e lui sta apposto oppure possono essere 2 e 1 o 1 e 2 quindi 2 blu e 1 grigia 1 grigia 1 blu e 2 grigie quindi qui c'ha 2 blu qui ce n'ha almeno 2 grigie qui ce n'ha in questo caso ne prende tutte e 3 dello stesso colore ne potrebbe avere 3 blu o 3 grigie quindi la risposta corretta è la A un caro saluto per qualsiasi richiesta suggerimento commento se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su condividetevelo perché molti mi dicono io non so come accedere su youtube basta cliccare il link youtube fa parte di google google è importante che lo abbiate tramite un account google potrete proprio registrarvi e quindi iscrivervi al canale attivando la campanella non perdere alcun video è importante attivarlo perché qualsiasi docente soprattutto adesso che si fa didattica a distanza deve avere il pacchetto google che poi gli sarà attivato dalla scuola perché con google meet ha la possibilità essenzialmente di fare la didattica a distanza un caro saluto alla prossima ciao grazie